insomma insomma ragazzi ci siamo è quel giorno ieri direi che i padroni casa della germania sono partiti molto molto forte hanno messo subito le cose ben in chiaro per questo europeo ci siamo anche noi noi abbiamo dei dolci ricordi legati a delle spedizioni nazionali in germania è proprio la germania non ha dolci ricordi per le spedizioni nazionali all'interno dei loro paesi contro di noi quel richiamo al 2006 è ancora forte se non fortissimo dovrebbe essere confermata la formazione di cui abbiamo discusso ieri quindi vediamo se federico chiesa che dovrebbe partire sulla destra potrà essere quel terminale aggiunto in fase offensiva insieme a di marco per andare a formare due corsie abbastanza spinte non lo so mi stimola molto quella proposta è un calcio molto moderno molto fluido in cui si mischiano i ruoli vedremo se sarà così intanto penso che nel video di ieri su di lorenzo in tanti siete stati d'accordo con la mia posizione perché io continuo a vedere no ed estate è bello per un motivo ci sono sempre le probabili formazioni quelle che dovrebbero essere alla linea di partenza il prossimo campionato quindi gli undici ipotetici non è un'offesa anch'io le faccio spesso e volentieri però quando poi si va a ragionare su quelli che dovrebbero essere gli undici disponibili il terzino destro la juventus è quasi sempre di lorenzo mi fa un po ridere questa cosa un po sorridere perché ripeto sembra quasi che si dia per scontato l'arrivo di di lorenzo la juve quando secondo me non è assolutamente così anzi siamo ben lontani da aver incastrato il colpo anche perché dipenderà molto dal futuro di federico chiesa perché sappiamo che quell'ipotesi legata allo scambio con il napoli può essere veritiera ma federico chiesa è richiesto anche dalla roma oggi chiesa è impegnato in altri ragionamenti e la juventus e le sue gente si troveranno a breve magari tra un paio di settimane magari dopo l'europeo comunque nei prossimi giorni nelle prossime ore per decidere quello che è il futuro dell'esterno numero 7 bianconero tra l'altro c'è anche una possibilità ho letto nei giorni scorsi di scambio di capitani tra i ventus e napoli ecco questo sarebbe davvero clamoroso secondo me perché non ho idea se due società in serie a se siano mai scambiate i capitani ufficiali della stagione in corso io non credo che danilo sia un incedibile per la juve credo potrebbe essere anche un buon colpo anche per conte come terzo della difesa tre l'abbiamo visto in questi anni ha ritagliato una parte di carriera in cui sta andando ovviamente nella parte conclusiva e quindi potrebbe essere un buon colpo però ribadisco non credo che anche questa opzione possa essere buona anche se potrebbe magari sistemare un pochettino le situazioni contrattuali di entrambi i giocatori di danilo perché è in scadenza 2025 di lorenzo perché è separato in casa con il napoli in quel caso credo che le juve dovrebbe aggiungere un conguaglio economico per un giocatore di lorenzo di due anni più giovane ma con un contratto più più lunga scadenza stiamo parlando del 2028 contro il 2025 anche se immagino che potrebbe essere un conguaglio non proprio ricchissimo ma almeno dal mio punto di vista dovrebbe essere così sicuramente non mi strapperei i capelli anche perché non credo che danilo potrà essere un giocatore importante per io ancora per tanti anni ma secondo me è difficile che se napoli decidano di scambiarsi i capitani sarei veramente sorpreso di questa cosa nella giornata di ieri si è parlato anche un pochettino però di quello che dovrebbe essere il giocatore in entrata nel post chiesa abbiamo già discusso ampiamente sul canale dicendo che cedere sia chiesa che su e per poi andare a prendere un esterno è controintuitivo per lo meno io delle due se chiesa una situazione contrattuale difficile tratterrei su le però sto facendo i conti senza l'host e l'host si chiama sostenibilità quindi la juventus ha fissato il prezzo sono 40 milioni per su le e le offerte della premier league sembrerebbero dover arrivare a breve però se avevamo sempre parlato del nome di greenwood e dal punto di vista extracampo è un nome che ha fatto veramente il giro del web perché io ho letto tantissimi commenti contro l'acquisto di greenwood io mi sono già espresso sulla vicenda eviterei di acquistarlo perché la juventus questa tipologia di calciatori che hanno dei legami non solo con il rettangolo verde diventano poi problemi diventano problematiche basti solo vedere quello che sta succedendo a fagioli no anche quelle che sono state le polemiche legate alla sua convocazione nazionale poi stiamo mettendo le due cose quasi sullo stesso piano diciamo che le accuse o comunque quello che è successo a greenwood anche se in questo momento è tutto ritirato sono diverse fagioli ha pagato con una squalifica di sette mesi è tornato a disposizione ed è un giocatore che anche in questa spedizione di euro 2024 può tornare molto utile all'italia e spalletti non è uno sprovveduto lo sa benissimo però le prime pagine dei giornali già con l'associazione con l'aver associato il nome di greenwood a quello della juventus ci sono delle persone che non aspettano altro di questo mezzo passo falso dell'aiuto dal punto di vista della programmazione per cercare di distruggere preventivamente anche quella che potrebbe essere una stagione che alla juventus dovrà dare grandi 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 soddisfazioni poi c'è un aspetto sportivo perché abbiamo discusso dicendo che chiesa non è adatto a tiago motta o comunque riuscita la voce che tiago motta non sarebbe proprio felice di chiesa perché perché chiesa nel 4 2 3 1 di tiago motta non andrebbe a seguire quelle che sono gli ordini in fase di non possesso palle e quindi difendere blocco basso io chiesa ho visto fare anche il quinto con allegri e non mi è sembrato un particolare problema credo quanto più che queste voci siano messe in circolo per cercare di far passare il messaggio che federico chiese sul mercato perché a livello mediatico funziona anche così però poi mi faccio la domanda e dico invece allora greenwood sarebbe il profilo ideale per quella roba lì che è molto più attaccante forse greenwood rispetto a federico chiesa forse anche meno spirito di sacrificio da quel punto di vista quindi non credo che il discorso sia legato alle caratteristiche tecniche perché poi il calciatore che si mette a disposizione lo fa al 100% credo quanto più che siano proprio necessità di mercato da viventus di monetizzare federico chiese in questa sessione che l'ultima disponibile prima della scadenza del contratto e allora ieri si è parlato anche di un'alternativa a greenwood ed è un giocatore interessante che si era già discusso per la viventus anche a gennaio che a gennaio effettivamente poi si è spostato anche qui sempre dal manchester united loro hanno comunque un'infinità di giocatori perché tra chelsea united hanno fatto dei mercati negli ultimi anni in cui qualsiasi cosa fosse in grado di muoversi veniva acquistato a suon di milioni e poi queste strategie non hanno pagato al punto di vista sportivo basta dare un'occhiata al rendimento in premier dell'ultimo paio di stagioni di queste squadre però sono tutti giocatori importanti e quindi sancio che era tornato al borussia dormund si era giocato anche una finale di champions con quello che era stato il suo primo amore si è rimesso un pochettino in vetrina da solo è tornato al manchester united tra l'altro terstice è anche fresco di missionario del borussia quindi è stato promosso ad interim nuris hain che è stato un ex giocatore del borussia dormund che probabilmente era legato alle giovanili però sancio potrebbe essere un'opzione è un profilo che la juventus si interessava già appunto qualche mese fa è un profilo che sicuramente dal punto di vista dell'extracampo è più tranquillo anche se anche qui c'è stato un po di carattere fumantino ed è per quello che poi il ragazzo è finito fuori rosa allo united c'erano state un po di problematiche però anche qui potrebbe essere banalmente un ragionamento della serie dobbiamo cedere qualcuno lo mettiamo fuori rosa così facciamo capire che era sul mercato però c'erano stati dei dissapori con tenag che è stato riconfermato allo united e quindi è un giocatore che difficilmente possiamo vedere ancora all'interno della rosa dell'unite dell'anno prossimo e diventa un'occasione di mercato stiamo parlando anche qui di una valutazione molto alta è perché il prezzo di sancio sicuramente non è un prezzo di regalo però giuntoli potrebbe lavorare ai fianchi dell'unite per un giocatore che non hanno interesse nel trattenere io sono convinto che sancio apprezzerebbe l'opzione legata alla juventus sarebbe stimolante anche con un nuovo tecnico che potrebbe metterlo al centro del progetto lì sulla fascia destra quindi sancio nome che teniamo monitorato e se devo dirvi la verità è anche un nome che preferisco rispetto a greenwood non solo dal punto di vista delle polemiche extracampo quanto più dal punto di vista sportivo io greenwood lo conosco poco ho sempre sentito parlare molto bene dal punto di vista del talento però invece sancio è un giocatore che abbiamo comunque ammirato anche negli anni precedenti un giocatore che è arrivato allo united dopo un esborso economico di oltre 100 milioni proprio per strapparlo al borussia dormant è uno di quei giocatori che poi quando vengono messi in quella realtà un po così in cui il punto focale del discorso è acquistare 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 perdono un po del loro smalto e forse avrebbero bisogno di ritrovarsi in una società un pochino più seria possiamo battezzare la juve in questo modo rispetto allo united dal punto di vista del mercato quante volte ho detto punto di vista in questo video stavo cercando di sinonimi ma mi esce troppo naturale quindi il riassunto di oggi è scambio di lorenzo danilo boh la vedo un po più complicata piuttosto che greenwood vado su sancio che mi sembra un profilo più idoneo ecco sostituire chiesa con sancio credo che possa essere un una buona trattativa ecco non sarei particolarmente triste perché al posto di federico arriverebbe un giocatore molto molto interessante vedremo che cosa farà all'interno di questo europeo perché anche l'inghilterra mi sembra bella farcita di talenti ragazzi un saluto a tutti ci vediamo stasera per il post partita della nazionale magari un po più breve dato che sarò anche fuori per vedere la partita fatemi sapere le vostre considerazioni sotto nei commenti ciao